Il coro di San Stanislao è un punto di riferimento culturale e spirituale per gli emigrati dalla Polonia a Roma. Il nostro coro, fondato in chiesa di San Stanislao a Roma in via Bottega Oscura, che comprende le persone che sono i polacchi che stanno qui a Roma, che fanno parte di comunità polacca, frequentiamo la chiesa. Nel 2006, da iniziativa di Suor Bartina, che lavora in chiesa polacca, è partita l'idea di creare il coro. Così ci siamo incontrati, sono le persone che amano la musica, che amano cantare, che amano incontrarsi per glorificare anche Dio con canto e per partecipare a tutte le prove che si svolgono in chiesa polacca due volte alla settimana. La nostra Suora ha un grandissimo stima per noi, una grande carisma, quindi diciamo che ci attira pure con la sua gioia, con la sua bravura, con il suo talento che ci trasmette anche a noi. Questo si vede poi cantando un pochino, diciamo. Noi cantiamo soprattutto i brani che seguono il calendario liturgico della chiesa. Cantiamo i brani patriotici, mariani, anche natalizi. Come il coro abbiamo partecipato a varie occasioni, varie cerimonie della chiesa. Abbiamo cantato in Basilica di San Pietro, in Basilica Laterana, in Basilica di San Giovanni Rotondo, da Padre Pio, in varie chiese a Roma. Anche questa domenica abbiamo cantato in Basilica di San Giovanni Laterano, nella festa dei popoli che si è svolta stamattina. Per noi oggi pure è una grande occasione di esibirsi qui, in questa parrocchia. Come siamo scelti pure tra 20 cori, in 5 cori siamo anche noi. Per noi è una grande festa. Dobbiamo dire soprattutto grazie a Suor Martina, che grazie a lei, grazie a nostra amica Agnieszka Nova, che ha composto il brano che abbiamo infatti registrato, cantato, che ci hanno dato possibilità di partecipare a questo grande evento qui. Voi partecipate alla seconda edizione di Cantate inni con arte con il brano inedito e latino Victor Sub Claudio, dedicato alla memoria liturgica di San Stanislao. Esattamente. Allora, questo brano l'ho scritto esattamente per il coro polaco, riunito intorno alla chiesa rettoria di San Stanislao, perché, se posso dire tutta la genesi, che purtroppo sinteticamente non si può fare. Allora, questo anno 2018, la conferenza episcopale polacca ha deciso di dedicare, in vista di sinodo dedicato ai Giovanni ad ottobre, che si svolgerà qui a Roma, a un giovane santo di nome San Stanislao, non è Stanislao nostro, vescovo e martire, però questo fatto mi ha fatto accorgere di necessità che noi, come coro qui, come comunità polaca, nella prossimità di festa di 8 maggio, non ce l'abbiamo l'inno liturgico di cantare e di dedicare a San Stanislao. Allora, così ho cominciato a leggere la biografia, ho verificato le vecchie cronache. Questo è un tema soprattutto molto attuale, perché è una storia di un vescovo che si è opposto al re. Dunque c'è questo conflitto tra sovrano laico e un personaggio di gerarchia ecclesiale. Questo succede anche nel mondo di oggi, e volevo dire, se posso fare una digressione, che ho visto che tra finalisti ci sono molti argomenti di attualità estrema, cominciando dal tema di Gerusalemme, che con la decisione di Trump di spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, e poi pure mi sa che ha seguito Guatemala. Siamo proprio in pieno interessamento per questa città che doveva essere santa, ma sappiamo che il conflitto israelano-palestinese è irrisolto finché non sarà risolto lo status di questa città. Poi questa è una di Brani, poi anche Cantate Domino, che è di altro coro, che subito mi ha fatto pensare a questo documento di Misal l'anno scorso, che è stata una dichiarazione di 200 personaggi del panorama religioso, organisti, musicisti, preti, cardinali, che hanno verificato che la musica liturgica non è in ginocchio, praticamente, e l'anno si sono opposti e hanno cercato di fare qualcosa per trovare un salvagente. Poi tornando sempre al nostro San Stanislao, Victor Subgladio è suo molto vescovile, e che vuol dire è un vincitore sotto la spada. La sua spada non era una spada di metallo, non era una spada, era un simbolo di anatema, e infatti lui è morto, è stato squarciato, gettato al pasto ai cani, perché si è opposto al re, che l'ha ritenuto un tradimento alto, ma contro di che cosa si è opposto? Si è opposto contro maltrattare dei sudditi, contro una vita dissoluta, dunque, diciamo, argomenti operistici di altissimo livello. Comunque, Victor Subgladio vuol dire vincitore sotto la spada, ed era l'anatema, l'anatema che ha dato al re Boleslao II Ardito, e questo re ha deciso, durante quando lui svolgeva la funzione di messa in una chiesa di San Michele, l'ha deciso di ammazzare e poi smembrare. Un altro importante punto di riferimento per il coro è la figura di San Giovanni Paolo II. Il Papa, nel 1999, nella lettera agli artisti, scriveva che nell'arte si rivela l'immagine di Dio. Dunque, anche il canto è una forma d'arte. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e lo riempie sempre, oggi è il giorno di Pentecoste, tramite lo Spirito Santo, in vari modi di realizzare la sua umanità. Per noi questa realizzazione è il canto, il suono, qualcuno di noi suona pure qualche strumento. Quindi questo, penso, è il più profondo senso che ci dà, diciamo, per avvicinarsi a Dio anche, ma rende sensibili, diciamo, proprio i nostri sensi, scusate del gioco delle parole, appunto come apertura a Dio. Il canto, che tramite canto noi ci avviciniamo a Dio e lo sentiamo dentro. E' lui che ci ispira e che ci dà questa possibilità di lodarlo tramite il canto. Poi volevo menzionare anche durante la velia per la benificazione di Giovanni Paolo II, noi abbiamo fatto pure la parte con il nostro inno di ringraziamento, appunto dopo la testimonianza della guarigione della suora francese. Subito dopo abbiamo fatto questo inno di ringraziamento. Questo è tutto.